Ogni settimana da oggi i lettori di Vita Trentina si potranno idealmente collegare con una nostra redazione un po' speciale che sede a Spini di Gardolo, presso la casa circondariale. Dopo quattro anni il lavoro giornalistico redazionale di un gruppo volontario di detenuti accompagnati da Pier Giorgio Bortolotti per l'APAS, l'Associazione Provinciale per l'Aiuto Sociale, realizzava un proprio giornalino dal titolo Dentro. Ora è diventato un inserto trimestrale di Vita Trentina, si intitola Non Solo Dentro per la volontà proprio di lanciare un ponte verso i lettori della comunità trentina perché le domande e le risposte che arrivano tra il carcere e le due comunità possano trovare un veicolo nuovo, un canale per comprendersi, per accompagnarsi e anche per guardare alla nostra vita sociale da un osservatorio particolare, non solo dentro.